Adesso lo vediamo. Allora, prima di tutto volevo fare una premessa. Allora, questo è il San Giovanni Battista di Carracci. Io sono San Giovanni Battista, anche se sono vestito un po' meglio di San Giovanni, che indica la strada, perché prepara la strada a chi viene dopo che vi darà più il verbo. Io vi darò un sacco di numeri, però poi chi darà il verbo è Daniele Lucangeli che viene dopo di me. Ok? Quindi, ricordiamoci. I numeri sono, come dire, affascinanti, eccetera, eccetera, ma sono i numeri. Poi il tema vero è un tema molto importante, però io posso solo preparare la strada al verbo. Ok? Vi do anche un filo di contesto. Allora, non ci sono dati recenti che ci facciano vedere com'è la situazione fuori, però sostanzialmente l'Italia ha allineato agli altri. Questo qua è uno studio dell'OECD, l'OXE. E questo studio ci dice che l'Italia dal, sostanzialmente, del 2012 al 2015, ha fatto un salto enorme in utilizzo dei cellulari, questi sono 15 anni. Ok? Vedete, più o meno noi siamo tutti quanti allineati. Ok? Ma è un salto enorme che noi abbiamo fatto. E non so se questi sono i salti di cui andare orgogliosi, però per dare un poco di contesto. Quindi la media che noi abbiamo come Paese è intorno ai 160 minuti al giorno nella settimana lavorativa. Andiamo avanti, andiamo un po' veloci. Allora, prima di tutto, chi sono i genitori che sono stati intervistati? Genitori normalissimi. Non sono, come dire, famiglie, come dire, con una percentuale, o quelle scuole con una percentuale di immigrati eccessiva. Sono genitori che rientrano nella media di età di quello che ormai è il nostro Paese, quindi tendenzialmente genitori non giovanissimi, che hanno fatto degli studi, come il resto della popolazione, che per quanto riguarda i padri sono soprattutto lavoratori in proprio e poi impiegati. Se un mamme, questi due dati sono un poco, come dire, leggermente biased rispetto alla distribuzione della popolazione nel Paese. Casalini che è 40% e insegnanti o comunque dipendenti pubblici, 20% sono le due mode che noi abbiamo. Quindi non sono situazioni, come dire, estreme, per cui questi due elementi teniamoli a mente per interpretare poi i dati che abbiamo invece dopo. E quando tornano a casa? Sostanzialmente le madri sono o tutto il giorno a casa o comunque tornano a casa molto presto. I padri invece tornano o poco prima delle 18 o dopo dei 18. Gli studenti. Guardiamo un attimo gli studenti. Questi studenti che attività fanno? Perché questo è interessante un po' per coniugarlo con l'altro. Allora, man mano che da sinistra verso destra, scuola primaria verso quella secondaria di secondo grado, gli studenti passano più tempo in attività sportive e in attività all'aria aperta. Dopodiché la televisione scende con l'età, quello che sale è tutto quello che il resto, ma questo lo vedremo dopo, è una piccola anticipazione, e nel weekend i numeri sono gli stessi, soltanto sono spostati verso l'alto. E allora, questi figli che fanno? Troppa attività sui social? Ma no, se noi vediamo i genitori, no, non è questo. Troppo tempo con i videogiochi? Ma non sembra. Non per i genitori. Troppo tempo su internet per la sua età? I genitori non sono d'accordo. Tu trai tempo allo studio per social e videogiochi? I genitori non sono d'accordo. Pensi alle occasioni in cui lei utilizza il tablet o lo smartphone in presenza del figlio. E dica se queste risposte possono essere comunque in qualche modo vere. Quando lei utilizza le tecnologie in presenza del suo figlio, questo accade con una certa regolarità. Ma no, non accade. Il tuo figlio preferisce relazionarsi online che non di persona? Assolutamente no. Il tuo figlio è in compagnia e preferisce quindi, quando è in compagnia, isolarsi con il proprio dispositivo? Ma no. Bene. Ok. Allora, fatto questa carrellata che è come se fosse lo scenario. Adesso io ho fatto uno sforzo di sintesi enorme. Noi non avremo la possibilità di vedere tutti i risultati, perché è un'enorme selezione già questa. Però volevo farvi vedere alcune affermazioni che vengono fuori molto nette dagli interviste fatti con i genitori. E che riguardano proprio il clima scolastico, proprio il processo dell'apprendimento. Allora, i genitori dicono in modo molto chiaro, non è vero che, non è vero cosa? Che il mio figlio, quando ha delle difficoltà, questo mi fa arrabbiare. Non è vero che tendo ad aiutare troppo un mio figlio. Non è vero che dopo un colloquio con gli insegnanti sono particolarmente nervoso. Non è vero che tendo a sopravvalutare le difficoltà dei figli. O le difficoltà mi fanno paura, o le difficoltà mi intristiscono. Il momento dei compiti non è vero che è un momento di ansia. Così non è vero che faccio fatica a far lavorare ai compiti mio figlio. Sono preoccupato, non è vero che sono preoccupato per il futuro di mio figlio. Non è vero che mi sento solo davanti alle difficoltà dei figli a scuola, quello che devono fare. Non è vero che ha difficoltà mio figlio a concentrarsi. Non è vero che ha difficoltà a fare i compiti, calcoli, leggere, produrre testi scritti o fare ragionamenti complessi. E non è vero che mio figlio ingigantisce le difficoltà. E non è vero che si fa prendere d'ansia quando deve fare un'interrogazione. Oppure che si introdistisce a causa delle sue difficoltà. Allora, i genitori dicono queste cose qua, l'ho messa che non è vero. Perché è chiaramente la risposta con la frequenza più alta. Lascio voi, non puoi interpretare, ma lascio ognuno riflettere sulla propria esperienza quotidiana qual è la prospettiva all'interno della quale noi possiamo valutare queste risposte. È abbastanza vero che so come aiutare mio figlio quando è in difficoltà e so chi rivolgermi. E so, perché lui si impegna a combattere le sue difficoltà, come ne può venire fuori. Ed è vero abbastanza che mi parla delle sue difficoltà. Queste sono le loro prospettive. No, no, questo lo schippiamo un attimo. Poi vi diamo tutti i dati, quindi poi vi potrete guardare tutto quanto con attenzione. Facciamo un po' di selezione in modo tale che poi ci focalizziamo sui messaggi importanti. Approccio allo studio, ok? Questi sono gli studenti che rispondono, ok? È poco vero, dice lo studente, che mi piace studiare con la televisione accesa. Non è tanto vero che devo stare più attento e me lo dicono in continuazione. Non è vero. È abbastanza vero che se certi esercizi io mi riesco, io ci provo, mi intestardisco finché poi non ci riesco. È abbastanza vero che mi piace studiare per imparare cose nuove. Che ho molto da studiare, se ho molto da studiare rinuncio a fare cose che mi piacciono. Che mi dispiace lasciare a metà un'attività di studio, che quando studio riesco a concentrarmi su quello che sto facendo. È molto vero che, anche se non ho capito bene un compito, tento comunque di fare gli esercizi che mi sono stati assegnati. Che quando studio inizio con le materie che mi serviranno poi il giorno dopo, che quando studio leggo tutto ad alta voce. Leggo tutto ad alta voce. Siamo nel medioevo. Allora, bene. Allora, adesso entriamo nell'utilizzo degli strumenti. Io accelero un attimo perché poi, come ho detto, il verbo, io sono di San Giovanni. No, sono il battista, non altro. Allora, il cellulare. Tenete conto che il cellulare ce l'ha il 75% di questo campione, che va proprio dai bambini della prima elementare in su. Quali di tutti questi qua ha un suo cellulare personale? L'84%. Il 75% del 100% ha un cellulare. Di questo l'85% è personale. E vedete quando lo prendono? Lo prendono anche prestissimo, al primo anno della scuola elementare. E poi cresce. Praticamente quando sono arrivati alle secondarie di secondo grado ce l'hanno tutti. Il suo figlio ha un suo cellulare personale. Vedete le due distribuzioni, le due risposte? E l'età in cui hanno avuto i cellulari? Vedete come le due risposte non coincidono? Quello che diceva Valentina in premessa. E' come dire che i genitori poi quando devono toccare i temi non sanno veramente o si vergognano della situazione. Dalle risposte di prima noi possiamo tranquillamente inferire che vedono un mondo che non è reale. Che non è quello che nella scuola si sperimenta tutti i giorni. E io non ho esperienza di scuola primaria, secondaria. Ma io ormai sono da 5 anni, 6 anni vicepresidente di ImparaDigitale. E sono stato uno dei fondatori, uno dei supporter fin dall'inizio di Anora. Ma per la mia esperienza con i miei figli e con tutte le scuole che noi abbiamo visto in tutti questi anni che ImparaDigitale ha fatto il suo lavoro, è assolutamente non realistico. Allora, a quanti anni il suo figlio ha ricevuto il suo primo cellulare? Beh, qui vediamo chiarissimamente che le risposte sono tra i 3 e i 5 anni, prima dei 3 anni, o tra i 6-8 anni è l'ambito più gettonato. Ma guardate come sono le risposte, vedete proprio occhio la distribuzione, come è diversa tra sopra i genitori, sotto i figli. E questo è uno smartphone, sì, dei 1112 che hanno un cellulare personale, e questo è un tema molto importante, su cui dobbiamo riflettere perché ha diverse conseguenze nelle pieghe. Quanti genitori hanno il codice e la password per poterlo sbloccare? Ricordate, la password che sblocca, poi, è la password che può essere utilizzata, ha anche, diciamo, un codice come quello che può essere utilizzato per il monitoraggio dello screen time. Tutti i cellulari moderni, indipendentemente dal sistema operativo, danno la possibilità di controllare lo screen time. Ma dovete mettere un PIN, un PIN sul PIN. Se non avete il primo PIN, come fate a mettere il secondo PIN? Allora, vedete, praticamente la metà non ce l'ha. La metà dei genitori non ha il PIN per sbloccare il telefono dei figli. Guardate la differenza tra i figli e i genitori. Anche qui la situazione è ancora peggio, perché ancora una volta i genitori vedono una situazione, o riportano una situazione che non è quella reale. Poi, qui rispondono tutti, i tuoi genitori ti hanno dato delle regole di utilizzo del cellulare? Allora, sì, ci sono delle regole, ci sono delle regole, sostanzialmente, quasi nel 70% dei casi. Allora, queste regole qui vengono addate al suo figlio, questa domanda ai genitori, delle regole. Sì, guardate le differenze che ci sono. La cosa strana è che i figli hanno la percezione che ci siano più regole di quelle che in testa hanno i genitori, perché i genitori in realtà, su questo punto, si rendono conto che sì, loro danno delle regole, ma non le possono controllare, perché non hanno il PIN. I figli invece sentono l'idea del controllo, ma di fatto non sono veramente controllati, non sono controllabili, la metà, ripeto, il dato di prima, dei genitori non ha il PIN. Rispetti le regole che ti hanno dato? Abbastanza. Secondo lei, suo figlio rispetta le regole che gli ha dato sul cellulare? Ancora qui, abbastanza. Questo è lo scarto, no? C'è uno scarto che è sensibile, ma non è tantissimo. Accelero e vado a concludere. Quanto i tuoi genitori controllano quello che fai con il cellulare? Per niente, poco, abbastanza. Eccolo qua, questi sono i ragazzi, i studenti che rispondono. Quanto spesso controlla quello che suo figlio fa con il cellulare? Ogni tanto, abbastanza spesso. Allora, come uomo di tecnologia io mi chiedo, ma come controllano? Gli studenti hanno la percezione di essere più controllati di quanto i genitori davvero controllano. Vedete, anche in questa distribuzione. Ha un'idea anche minima di come suo figlio utilizza il cellulare? Ma, se vedete, sì, tutti quanti, il 90%, ha un'idea di come utilizza il cellulare. Generalmente, quanti messaggi manda il suo figlio in una giornata normale? Da uno a cinque. Ma ci sono casi di mamme sopra i venti messaggi. Allora, questo lo dovete tenere a mente per dopo, per quello che vi dirà Daniela, quello che vi dirà poi Burgio nel pomeriggio. Utilizzo il cellulare in camera la sera. Dovete pensare che fare queste attività prima di andare a dormire ha un impatto molto importante sui processi che accompagnano l'addormentamento, no? La melatonina, eccetera, eccetera. Però questo ve lo spiegheranno poi nel pomeriggio con più dettaglio tecnico di quanto potrei fare io. Il 70% lo porta a letto, di tutti quelli che hanno il cellulare. E il 31% lo utilizza quando va a letto. E anche molto. Quando va a letto, porta il cellulare in camera sua, vedete, si sono autorizzati. Il 47%, sono meno di quelli che lo portano, perché nella slide prima sono molti di più, ma praticamente lo portano a casa autorizzati. E fino a che ora lo usano? Beh, c'è una fetta importante, il 30% dopo la mezzanotte. Fino a mezzanotte, 18%. Fino alle 23, 26%. È enorme. E la mattina gli studenti dicono di non avere problemi di concentrazione. Giusto per richiamare il dato che era passato prima. Fino a che ora lo tiene acceso generalmente? Questo è il dato che avevamo visto prima, ma visto da un'altra prospettiva. Fino a che ora è autorizzato a tenerlo acceso normalmente? L'autorizzazione, quindi la regola di utilizzo, è oltre alla mezzanotte per qualcuno, fino a a che ora è un'altra prospettiva. Fino 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 a che ora è un'altra prospettiva. Grazie a tutti. 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 Non tanto. Utilizzo del cellulare da parte dei ragazzi, con questo finisco. Quanto usi il cellulare per studiare? Mai o poco. Non è uno strumento che entra nella loro concezione, nel loro utilizzo, davvero nella didattica. Genitori, quanto il suo figlio usa il cellulare per studiare? Un casino. Quanto usi il cellulare per giocare? E il suo figlio per giocare? Non si sono accorti di questo. non è uno strumento che può essere sulla tela di proiezione, perché è un tema che poi sviscereremo ulteriormente nel proseguo, ma è il tema di riflessione. è quello che abbiamo questi strumenti, se li usiamo come li usiamo, grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.